Un grave incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo a Strettoia, nel comune di Pietrasanta. Uno scontro fra un'auto e uno scooter all'incrocio tra via Montiscendi e via Cugnia, lungo la ferrovia. Ad avere la peggio è stato l'uomo in moto, un 33enne di Pietrasanta, residente a Fortoremarmi, che adesso rischia la semiamputazione del piede. Ha infatti subito un'importante frattura nello scontro ed è stato subito soccorso alle sanitari, portato d'urgenza al NOA di Massa, dove è stato operato con una prognosi di 45 giorni. Lievi invece le ferite per la donna, residente a Pietrasanta, alla guida dell'auto, portata in codice verde al Versilia. Sul posto la Polizia Municipale e di Pietrasanta per eseguire i rilievi. Per i soccorsi è intervenuta la misericordia di Massa, insieme alla Croce Verde di Fortoremarmi, con l'ausilio dell'automedica del 118.